Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo indie game e di solito noi avevamo detto che non facevamo più indie game però ogni tanto uno ci può anche stare, questo ce l'ha consigliato dei gamer assieme all'angolo dei videogames non lo abbiamo ancora provato, andiamo alla ceca, andiamo allo sbaraglio, lo proviamo un attimino poi lo valuteremo, magari se il caso, l'ho già guardato, ah l'hai già visto? ok, ho visto dei gamer quando erano venuto qua che l'ho visto giocare ah ho capito, io invece non ho guardato molto, quindi non so se vuoi provare tu a iniziarlo ma cosa ci facciamo? ci facciamo una serie perché questa è una cosa a puntate è un indie a puntate? vuoi cominciarlo tu? no guarda va bene vai, allora, torniamo ai vecchi tempi, allora new game, è very yes, vai questo gatto cioè ho detto che torniamo ai vecchi tempi, ma non ai vecchi termini anche oh le che partiamo bene batte, forte, sempre, tutto bello, bello lugubre no, mi mancavano questi momenti allora io quando mi ricordo un cazzo o vecchio buono eh, vecchio vecchio raggrinzito quella era chiusa, non si apriva? eh direi no, mi sono confusa, allora di qua giri talmente forte che ti rimbambisci anche da solo non è che rimbambisci solo gli altri, rimbambisci anche te rimbalbisci, si va rimbalbisci, rimbambolisci di palle quali? di ferro che sono da super a me? bellissimo ma quelli sono d'acciaio, perché di ferro fa la ruggine ora non so quanta figura di merda ci vuole fare super a me, però secondo me sai che ha rotto tre quarti di cazzo questo boom 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 il cuore eh, ho capito che il cuore, però il cuore scusa, me le apri le scatole? eh, cazzo articolo per signore delicatissimo come figliolo, però eh sta cominciando a usare termini molto belli si affascinanti, direi cazzo è grey, ottimo, direi citazione a qualcuno? no oh, clapis non c'entra niente, vero? assolutamente no cosa succede se vai giù di lì? c'erano gli occhi di chi? di una brutta persona eh, io non c'entra niente no, non c'entra niente perchè devi fare cose che non... sono belle non passerei di qua chiudi ste cazzo di porta no, non le chiude le apri e basta papi non mi fumare infatti cos'è uno dei classici giochi in cui non puoi saltare come scusa come scusa? gli ha messo il salto e non può neanche saltare perché c'è il muro che lo blocca gli indie non si smentiscono mai che cazzo mettono il salto a uno e non se neanche perché glielo mettono così oh sì e io non andrei dentro un buco poi eviterei ma ricordavo l'ho vista da eh, sì c'era il tuo pavimento? è di gamer sì perchè si spacca ah io questo cosa se lo vedo quindi dove andò da che? di gamer ho capito ti è andata bene, ti è andata, vai, va i pixel miei salvano dovete andare ah, non lo so se non lo sai te di qua mamma mia eh almeno le porte che rimangono aperte ti identificano che il punto ci sei già passato non andare giù di lì c'è nessuno non andare giù di lì non andare giù di lì se no facciamo un video per niente manz e su di merda e bum 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 e so sai quando andrò a editare il video quanti pip 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 mi troverò no nei segnali audio vabbè chi ha capito ha capito insomma papi hai rotto le palle papi hai rotto lo scrodo no qua va avanti io ah non perdiamo neanche i vecchi classici eh cosa c'è qua non me lo ricordo ma per sequenza faccio giocare te no non occhio che se no mi sposti il braccio dai muovi di su dai aspetta che io devo ancora capire i comandi dai 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 allora contesto sinistro o interagisci ah classico come call of duty world e come fai aprire le porte eh interagisci contesto sinistro barra salti ah pulsante sinistra il mouse vai bravissimo ok perfetto vedo che impari in fretta lapis abbiamo scapitelo due due non solo ecco qua ci sono ho già capito che ci sono cosa puoi capire da quello che c'è in terra sembra sembra bava sembra sono pixel grossi così cazzo non ci capisco ecco basta che non vengano fuori di quelli che vanno aaaaaaaaaaaaaaa quelli che mi cago in mano no meno quello ma sembrano ragnatele stico sembrano batte forte sempre oh che cazzo no Ragni, 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 ragni Devi andare avanti, devi andare avanti No Sì No Devi andare avanti da quella strada Mi sono andati via Aspetta, aspetta Attento Scappa, avanti Ma perché? Avanti, 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 avanti Apri, apri Gravissimo Sei salvo Per ora Sì? Sì, non passano le porte Ah Ce ne sono ancora, quindi preparati a correre Corri Forrest Corri Ti, non ho spade, non ho armi Infatti, posso solo correre Cos'è la tua arma Ah Eh, questo mi fa stare molto più tranquillo Vedi Ecco, comincia a scappare Corri Dove cazzo corro se mi bloccano? Di là Non va Non va Ah, mi fai male Gioco io Dai, gioco io Dai, sì Dove sono? Eh, gioco io Gioco io Gioco io Gioco io Vai, prego Ehm Eri di qua? Non lo so Non c'ho capito un cazzo Bellissimo Sì, è di qua Corri Forrest Corri Mosca di merda Se tu mi dicevi vai dritto io andavo dritto Eh, no, tu non ci sei passato da qua assolutamente Ma tu mi hai detto corri e basta, non so dove cazzo dovevo andare Questa non si apre? Questa non si apre, bravissima Aaron Se si auto elogia, non so Ho paura Ho paura Ho paura Cazzo tu vuoi? Ho paura Ho paura Ho paura Però che esplodi No, qua vai avanti tu Sempre così Cioè io ti dico che se mi fai andare avanti È perché non ci sono più i ragni Perché i ragni tu li hai affrontati Qua c'è qualcos'altro No, sicuramente Sono ancora i ragni Dai Dai, forza Guarda che cosa Oddio Ah, è un mini ragnetto Ah, una leva Vai, tira Bravo Eh, di là Prova ad andare di là Forza Un, due Un, due Un, due Bravissimo Vedi che sei intelligente È forza È forza È forza Devi andare avanti Vai Bravo, bravo Bravo Ora Non lo so E neanche io Ora Non lo so Ora Non lo so Ora Ora Non lo so Ora Non lo so Ma che giochi di merda Ah Grazie a tutti Grazie a tutti